Ci troviamo proprio sulla linea del fronte fra l'esercito siriano libero appoggiato dalle forze turche e il consiglio militare di Manbij Manbij è diventato ormai il punto d'incontro strategico di tutte le forze presenti nello scacchiere siriano sotto assedio da qualche mese sia da nord che da sud è considerata la porta verso Rojava i territori controllati dalle forze democratiche siriane la cittadina è protetta dal consiglio militare di Manbij un gruppo di ex combattenti dell'esercito siriano libero unitosi alle forze kurde per riconquistare la città dallo stato islamico l'impressione di Manbij sia una città assediata non è proprio evidente difatti la vita sembra scorrere normalmente anche se a solo i 10 km dal centro le forze siriane russe a sud e quelle turche a nord sventolano le proprie bandiere la turchia continua ad aumentare il suo potenziale bellico al fronte fra le colline verdeggianti mentre la milizia cittadina esposta le sue continue provocazioni comincia a costruire tunnel e trincee preparandosi al peggio anche se non più presenti da tempo la turchia accusa la città di ospitare militanti dell'ipg kurdo minacciando senza tregua di volerla attaccare occupare con le minacce di un ritiro americano dal conflitto in corso ma ambice le forze democratiche siriane sanno di avere pochi mezzi a disposizione contro un nemico economicamente e militarmente superiore tuttavia sono sicuri di poter resistere grazie all'esperienza dei propri soldati in pratica Non sono mai riferito alla propria impronta, smettendo le proprie idee e alcune istituzioni. I comandanti sono per la maggior parte kurdi e per strada i cartelloni che esaltano il martirio di centinaia di abitanti insieme a frasi di propaganda, ricordano molto Rojava, diventato ormai un feudo patriottico dove le foto del leader, Ojalal, sono esposte senza paura, irritando ancora di più il vicino. La popolazione civile in città prova a vivere normalmente fino a tarda sera, nascondendo le proprie paure. I negozi sono aperti, le persone girano per strada, ma la sicurezza è poca. Anche se per molti l'arrivo delle forze kurde ha significato un grande cambiamento in termini di libertà e stabilità, altri meno entusiasti si preparano a partire in caso di un attacco. In questo momento è già sera, la città vive ancora, ma vive anche una situazione di instabilità, non sapendo cosa succederà nel futuro.